wow 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 helloers wow wow what's up My name is Sarsati e siamo nuovamente qui per un nuovo evento sono a tutti i video in play questa volta suooo The Evil Within allora, eravamo arrivati qui eh eravamo morti nello scorso video in play un attimo che devo fare questo simpatico pezzo in cui io rampico sulla scala Alla Jackson 5 Snake 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 Oh no, no, no Non cadermi, non ora Bene, sì, lo so Grazie, la mia domanda è Ho ancora la balestra? Sì, ovviamente Però atteniamoci per quando dobbiamo fare i dardi Quelli seri Quindi, a riscendiamo A riscendiamo Oh, Gesù Tre ore dopo Mi avete detto che queste le devo roppere Quindi vediamo un po' se ci arrivo Con la pistola, non ne ho idea Speriamo bene Perché Yep Ok, ho tre pallottole Ok Oh Ok Oh, dai Yes E Oh, ok Mi avete detto che queste chiavi servono Quindi abbiamo appena Distrutto tutte le nostre risorse Bellissime per la pistola Vediamo se qui c'è qualcosa in realtà Io Da queste pari Oh Oh Merda Secca Dai Ok Mo Fermo lì No No E che Oh, sul serio Muori Muori Faffa Odio quando fanno così Guarda Ah beh Fa niente Anche perché tanto immagino siano di nuovo tutti vivi Oh no Oh no Quelli che avevo ucciso sono Morti Vai 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 Yes Checkpoint Mi lasci qualcosina Cos'è una Bomba a mano Yes Yeah 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 Dov'è Boom In realtà ne avrei un'altra Usa va Non vorrei usarla Ma sapete com'è no Sapete come si dice In questi casi Oh Shit Facciamo una cosa eh Dammi qui Ah riesci E come si Come si sprecavano munizioni Vai Rex In questo modo Non ci credo Ho sprecato tutte le fottute munizioni che avevo Bene Bravo Rex Bravo Sei Non farti sentire Mi raccomando E' importante Questo Ok vai qui Fa rientra Ok Posso tirartela Yeah Vai No Ok Immagino che sono morto Vero Che cazzo Ok Assecco Assecco Si sei Sei assecco Ciccio Hai sprecato tutte le fottutissime munizioni Che potevi sprecare Quindi Si Sei assecco E Direi che siamo Ciao Si direi che siamo morti Direi che siamo fottutamente morti Non ce la farò mai Ok 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 Con calma Con calma Ce la possiamo fare Con calma Tutti noi Possiamo farcela In un modo o nell'altro Ok Proviamo Proviamo a fare qualcosa di intelligente Ok Oh capisco Ora sono qui sopra Senza munizioni Bene Fantastico Ok Ho un altro di questi Che non mi servono In questo preciso istante Dato che Devo fare altro Ok Tre pallottole Tre pallottole Ci posso stare Ci posso stare Qui Yash Un'altra bomba Ma Perché me l'ha Infatto Tipo non Non ho altre bombe Dovrei averne due Ah quanto sembra No Usa questa va Ok Mettilo qui Che è brutto Però È Quello che stavamo dicendo E l'unica Mi avete anche detto Che ho mancato Ho lisciato Parecchie Cervella E un'altra Statuetta E questa cosa Mi dispiace Perché non vorrei Perdermi Determinate cose Dato che Immagino che Mi saranno Molto utili Al continuo Della missione Vediamo un po' Nye Non posso Prendere altro Mi sembra che C'erano delle scale Da qua Esattamente lì Andiamo un po' A vedere Che c'è lì Eh 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 Sto per Per stirare Le zampotte No sul serio Veramente Questa è una stamina Allucinante Non lo so Credo che Sia più veloce Ciccio bastardo Di Austin Power Su via Oh Boom baby Dammi un'altra chiave Non so a che servite Ma mi sarete utili E uno di questi Cervellotto Scendiamo Yes Yes No Vai Brucia Yeah Fantastiche Trappolozze Ecco quando siete utili Quando non prendete me Ah Hai qualcosa per me Hai Non hai Non hai un cazzo per il su Ah Danna Come sempre Sprego le munizioni Perché non riesco a rendermi conto Di quello che devo premere Come sempre Ok C'è il vecchio nonno Zebedeo Che sta salendo le scale Oh dove è la cara maria Dove è la Ciao nonno Zebedeo Stami bene W What the fuck Brandy Ok Gesù quanto cazzo Siete brutti Medicate Mio E sento un Save game Oh C'ero già andato Mi sembra qui Sì C'ero già andato Però andiamo a A migliorare il nostro Piccolo personaggio Dato che potremmo farlo Le mostrerò qualcosa di utile Oh ok Cosa La sua Va già e già Vogliamo fare un Tatatat Un tatatatatata Oh Oh capito mi stai invitando ad entrare Per avere un tatatat Mette da soli Dentro Lo studio del dottore Sono troppo vicino Sono troppo vicino Non parla molto Non sei una tipa di molte parole Sei una tutta pepe Tutta azione Oh ok Non credo di poter fare sesso qui E ossia ho due chiavi Oh posso usare le chiavi Per aprire questi Si Non lo vedo ma credo di si Ok Oh quindi devo andare a A culo e aprire un armadietto Il contenuto è tutto suo Torni qui ogni volta che vuoi Immagino che non avremo un tet-a-tet da soli Bene, ok, proviamo ad aprire Dai, oh no Questo Oh, medikit Due medikit Oh, oh E questo, vai Sono pieno di questa roba, grazie Mi... Ce l'ho Qui? Ok, questa no, non è l'uscita Che diamo c'è qui? Questa mappa è frammentata almeno quanto la città stessa Forse rimettendo la insieme Vabbè, ok Forse rimettendo insieme potremmo fare qualcosa Che non mi ha fatto finire di leggere Grazie E la tipa poteva pure regalarmi una chiave Tanto per Maledetta Andiamo a migliorare le mie capacità Prima di morire definitivamente Non posso andare più avanti di così Ok Vai Danno da corpo a corpo Boom baby Boom baby Anche perché comunque mi trovo quasi sempre a corto di munizioni Quindi Vai così Ok Potremmo aumentare munizioni Armi Cadenza Tempo di ricarica Capacità del caricatore Uh, precisione Sì Sicuramente Vai Siamo diventati molto più forti Ora abbiamo un pugno a 3 su 5 Oh yes Non so che cambi Spero che possa buttare per terra quantomeno i mostri In modo tale da Uh Sono scordato di salvare Perdonatemi Che cosa è lo succede? Me so scordato di salvare Ciccia Sabora Non so venuto qui per te Fottiti Potresti darmela e avrei un aspetto molto migliore di questo Ma non lo fai perché sei una lurida bastarda Lo sappiamo Silenzio C'è un tizio abbastanza cravatato qui Che non sa cosa gli sta per succedere Ah 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 Sì Questo è in pratica Ah 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 Oh 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 C'è un altro bello cravatato qui a quanto vedo Uno molto molto simpatico e un po' Sì Morto Checkpoint di nuovo Oh yeah Credo di stare andando molto Devo fare piano Dai 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 Ok anche questo è andato Devo ucciderli tutti prima di poter andare a A prendere il caro Tizio ciccio Ah porca di quella Apre Ok apri gli scrigni Per scoprire cosa contiene Se lo scrigno contiene una trappa Apri parzialmente per disattivarla Ok Tieni premuto Ok Vai Ah ah Munizioni per il fucile è questa Yes Com'è qui Ricarica Boom 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 Yes Vai qui Vai qui Datemi Munizioni che mi servono per Fare questo Maledetto Val dracone qui Ok piano Piano Non so Mi sa che non mi conviene Ok Salve Minchie Minchie No Caccio No Merda 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 No Caputana Oh mancavi tu tesoro Non mi ero accolto di te Rimediamo subito Uh dammi qui Dammi tutte le cervella Yeah Uh C'è un altro cervellottolo Attenzione a Mmm Cosa c'è qui? Ok Una di queste Bibitone E qui Oh qui c'è il Ok Bene Potrei anche fare un Trappolotto Però Dato che Non so Come Mmm Vediamo un po' Queste qui Esplosive Vediamo come va Ah 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 Non si sa mai No Eeeh Ho 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 Dai dai caro Cazzo No No Porca di quella Maledetta Mmm Ok dai 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 Esplodi Yes Vai So Ok Vai 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 Ricarica Ricarica Merda Merda Ok Dai Cazzo Oh mio Gio è morto Yes Oh Shit Ciao Ezio Arrivederci Ezio Oh Oh Sì Prendi questa Motosega Nei denti di questa vecchia motosega Un po' malconci Ha incastrato di tutto Prendi questo 5.000 5.000 5.000 Ma si Vieni bambinone mio Prendi questo Prendi questa E in realtà noi non avevamo un medikit Ci siamo persi da qualche parte Ci siamo persi da qualche parte Devo andarlo a recuperare Pallottole Yes 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 Dai così Forza Oh eccolo qui Dove era il doc giusto Sì Sì Era lì il dottore Questa l'avevamo sentita Però prendi questa Yes E ora utilizziamo questo Mega medikit Oh baby C'è anche Oh 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 Ok Direi che è un po' Ok sei un po' Sei un po' arrivato ciccio Tranquillo Vai così De cattiveria E se non mi sbaglio Qui c'era l'arpione Con cui potevamo iniziare a fare Gli arpioni Quelli veri e propri Giusto Ok 2 2 2 Ok Perfetto così Stiamo andando bene No no Prendi questo Ok Ok bene Ora dovrei poter tagliare questo Giusto Yeah Wee Boom baby Oh E ovviamente non ce la portiamo appresso Perché Oh Sarebbe troppo intelligente Sono qui Chi si muove Aspetti Agente Deve portarmi con lei Ok 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 Finito il capitolo Yes Oh Salve Salve partita Boom baby Il paziente Bene Quindi termine questo video in play Abbiamo Mamma mia Sfondato in kiap L'enorme cicciore Ciccio Eeeh Non so com'era Qual era il suo nome Probabilmente si chiamava Janji Eeeh Ed era un tipo simpatico Quando ovviamente Non lo prendeva Di cattivo umore Con una botosega Ma non era Non era quello il giorno Quindi Sti cazzi Quindi Termino questo video in play Ci vediamo al prossimo video in play Sapete che ho il vostro Axon Numontuno Ciao a tutti bro Oh yeah Eeeh